Ho 30 anni e questo è un problema. A un giovane oggi il regno del rimpianto è precluso da sempre. Gli ultimi 20 anni ci hanno precipitati in una crisi profonda alla velocità del buio. Il perlusconismo, secondo me, non è conseguenza di un DNA immutabile. È figlio di una lunga storia, vecchia almeno di 150 anni. Tiero Gobetti è lo spirito guida di questo libro. Lui si augurava sempre che i suoi lettori non fossero tali, bensì collaboratori. Non voleva che la rabbia di medesimazione terminassero a pagina chiusa. Bene, nemmeno io.